Assessore Serafini, una presenza importante, quella del Sette Rosa d'Imperia, li avete anche accolti con tutti gli onori al Palazzo Comunale. Assolutamente sì, è stato veramente un piacere ricevere la Nazionale di Pallanuoto all'interno del Palazzo Comunale all'inizio del Consiglio Comunale di questa sera. Era soprattutto doveroso perché domani sera la Nazionale Italiana affronta la Nazionale Greca all'interno della piscina Felice Cascione alle ore 20 ed è una partita molto importante per le qualificazioni e ci sembrava opportuno accoglierle in maniera ufficiale vista la rilevanza che è un evento come questo, un evento internazionale che porta alla ribalta la nostra città, le nostre strutture sportive e il nome di Imperia nel mondo. Presidente Sercino, come mai la scelta di aprire questo Consiglio Comunale con il Sette Rosa, la Nazionale di Pallanuoto? Beh, intanto io correttamente stamani ho chiesto a tutti i capigruppo non dico l'autorizzazione ma insomma la condivisione su questa cosa. Indubbiamente la Nazionale di Pallanuoto femminile ad Imperia è un evento perché è una nazionale, è una nazionale che ha presente atlete molto titolate a livello mondiale, il Capitano è una medaglia d'oro olimpica, più molte medaglie d'oro a livello europeo, e molte atlete titolate a livello di squadra, di club. E allora ci è sembrato doveroso, insieme al Sindaco, insieme all'assessore Serafini, ricevere la Nazionale in quella che è l'aula principe della nostra città. E tutto il Consiglio Comunale era presente, quindi è stato un momento importante e altamente significativo per una città che guarda allo sport come veicolo di immagine per la città stessa, e perché la Pallanuoto fa parte della storia d'Imperia. E quindi insomma questo è stato un piccolo gesto di riconoscimento, non tanto che l'amministrazione, il Consiglio in questo caso, ha voluto fare nei confronti della Nazionale, ma credo sia stato forse più un riconoscimento che la Nazionale ha voluto fare tutto il Consiglio Comunale. Fabio Conti, allora intanto benvenuti ad Imperia, che dite di questa accoglienza, mi sembra calorosa, anche in sala consigliare. Beh, come sempre Imperia ci regala momenti ed emozioni uniche. È la prima volta, come abbiamo detto pochi secondi fa, che ci capita di intervenire in un Consiglio Comunale. Siamo spesso ricevuti dalle istituzioni ed è invece questa è stata una prima volta e ci ha fatto molto piacere. E allora adesso si va in vasca con Sette Rosa per proporre che cosa? Domani abbiamo una partita con la Grecia, che è la partita del Gironi di ritorno. Insomma, fare il risultato domani ci darebbe già la qualificazione alla fase di finale di World League. Quindi cercheremo già di conquistarla domani, altrimenti avremo un'ulteriore chance. Però quella di giocare d'Imperia non vogliamo farcela scappare. C'è l'Ala Linantes che ha preparato insieme anche al Comune una grande tifoseria, quindi insomma non sarete soli in vasca. No, questo lo sappiamo ed è per questo che abbiamo scelto Imperia, perché ogni volta che si viene qui insomma c'è sempre grande calore e molta attenzione da parte di tutti per le nostre squadre. Allora in questi casi cosa ti bisogna dire? In bocca al lupo? In bocca al lupo va benissimo. Grazie. 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 Grazie.